Chi compra un'auto nuova non deve pagare il bollo per tre anni. E quanto si chiede alla Giunta con un ordine del giorno in Consiglio regionale, presentato dal capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e approvato dall'Assemblea con 25 voti a favore, tutti della maggioranza. Il documento mira a rimodulare la tassa automobilistica, verificando la possibilità di prevedere l'esenzione del pagamento della tassa per tre anni, nella misura massima di un mezzo per nucleo familiare, per i cittadini piemontesi che acquistino una nuova automobile Euro 6B, massimo 2.000 di cilindrata, in sostituzione di una categoria fino ad Euro 4. Impegna inoltre la Giunta ad avviare un percorso con il Governo, attraverso la Conferenza delle Regioni, teso a predisporre voucher ambientali con cui garantire un riconoscimento economico alle Regioni nel cui territorio si registrino importanti livelli di sostituzione del parco veicolare e conseguenti miglioramenti della qualità dell'aria, grazie alla riduzione delle emissioni. Un dato estremamente importante vuol dire andare incontro alle famiglie, crediamo sia il messaggio giusto che noi vogliamo dare per migliorare il nostro territorio, il nostro ambiente, non attraverso appesentimenti, vincoli, zone blu, allargamenti di zone vincolate, ma cercando di poter dare degli strumenti alle famiglie per essere incentivate a sostituire l'auto. Tre, i consiglieri del Movimento 5 Stelle intervenuti nel dibattito, Giorgio Bertola, Sean Sacco e Sara Di Sabato. Se viene applicato quell'ordine giorno così com'è, viene incentivato l'acquisto anche di vetture molto inquinanti, autovetture che hanno 300 cavalli di potenza, autovetture che hanno una produzione di CO2 di 170 grammi per chilometro. Noi riteniamo occorre incentivare l'acquisto di automobili meno inquinanti, ma andando veramente a vedere i dati di emissione. Raffaele Gallo, Partito Democratico, Silvio Magliano, Moderati, e Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, hanno sottolineato la necessità di capire quanto verrà a costare alla regione l'attuazione del provvedimento dal momento che il bollo auto rappresenta la seconda entrata per le casse piemontesi. Per Riva Vercellotti, Forza Italia e Apreioni, Lega, la proposta ha invece il doppio merito di migliorare l'ambiente, limitando l'inquinamento prodotto dalle emissioni delle auto più vecchie e di contribuire a ridurre le tasse per i cittadini piemontesi.